Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7 ai nostri gamberetti per dare il via veramente, in senso concreto, alla quarta stagione, se non sbaglio alla quarta stagione, sì, una in League 2, due in League 1 e la prima in Championship, è la quarta stagione Detto questo, signori miei, prima di partire con il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, sia su Instagram che su Facebook, link in descrizione e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite il link in descrizione, tramite l'applicazione Paypal Detto questo, partiamo con il video Ok raga, ci siamo, allora io stavo osservando il girone del torneo vestivo raga, e siamo un po' nella marmellata perché abbiamo beccato il Copenhagen, il Feynord e il Benevento, ottimo raga, proprio pensavo fosse l'Ajax invece il Copenhagen, ho sbagliato io nel guardare i simboli, la prima partita è contro il Feynord quindi perderemo male pesantemente, un'altra cosa che volevo farvi vedere prima di inoltrarci nella nuova stagione è che, eccola qui, l'immagine FL Cup, FL League 1, vittoria della squadra Morecambe quello che vi dicevo l'altra volta io, non so chi sia il giocatore lì, intervistato, ma la coppa ce la siamo portati a casa raga allora, allora signorami, andiamo alla partita con il Feynord arriviamo proprio all'apice della partita con il Feynord, così si sblocca il mercato ci sono i giocatori che rientrano dal prestito, qualcun altro lo potremo mandare in prestito e così iniziamo a fare un attimo il quadro della situazione il quadro della situazione se il gioco decide di andare avanti ha annunciato il miglior portiere del torneo, penso che sia McKinley perché è il nostro portiere, è quello lì, quindi per forza, per forza è lui il miglior portiere della stagione della stagione passata ovviamente allora io devo, ora una volta che riorganizzeremo la squadra raga andrò a modificare, ovviamente off camera, tutti quanti in cerca di nuove promesse, chi è che parla? Johnson, è triste essere legato ai margini della squadra? la Johnson, tenetevi a andare, cioè parliamoci chiaro io ti mando in prestito ma tenetevi a andare e ovviamente off camera raga poi vedrò di fare un discorso di allenamenti perché vanno tutti reimpostati a secondi giovani che ci portiamo a casa aumento del budget offerto per il trasferimento per Johnson Brennan e la squadra da Colonia è interessata all'acquisto di Johnson Brennan ma Brennan non è il nostro portiere? dimmi tutti, Brennan non è... ma perché? sono già confuso raga, sono già confuso e questa cosa non mi sta bene fermi tutti la squadra di Borussia Dortmund nel merino Icardi per la formazione interne mette nel merino Icardi della formazione interne ho capito, Icardi doveva stare la Borussia Dortmund ok, allora stiamo calmi prima cosa da fare, scusate, Brennan non è il mio portiere Brennan è il mio portiere che ho in squadra per chi lo dovrebbe vendere, scusatemi no, Brennan non se ne va allora, andiamo a rifiutare subito già la prima offerta che è fuori da qualsiasi tipo di parametro allora, stiamo calmi iniziamo ad andare a vedere gli svincolati raga se magari c'è qualche regen che ci vuole interessare ma non penso perché la squadra comunque è messa abbastanza bene proprio se c'è qualche elemento pauroso allora, vediamo un attimino 21, esterno destro brasiliano Dos Santos no, questi non mi fanno impazzire lui potrebbe essere interessante Scozzese no, non mi fa impazzire quest'altro no, neanche lui niente da fare lui? no, no, voglio dei verdi concreti raga non voglio ecco, per esempio lui, lui è molto concreto la forte lui è molto concreto signori miei aggiungi a lista di mercato aggiungi, aggiungi lui va preso sicuramente signori miei la forte la forte va preso è forte già di nome lui poi chi c'è? Dominguez no Diussè Jamal Diussè Jamal Diussè non sembreresti male zia accelerazione d'equilibrio e agilità non sembreresti per nulla male però in attacco siamo messi bene raga abbiamo Naga abbiamo abbiamo Teco secondo me è inutile prenderne troppi che poi ci fanno semplicemente saltare i progetti no forse però un esterno destro servirebbe Jensen no preferisco prendere quello là posso scegliere Karaman 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 è un altro attaccante turco e raga quest'anno ci sono i giocatori porca miseria l'euro uscì l'arabo questo è forte TS lì eh questo non tanto un altro lì e c'è uuuu Manolo agilità velocità resistenza e accelerazione questo non è neanche tanto male raga questo non è neanche tanto male è il problema che poi non rischiamo di avere troppi giocatori questa no troppi giocatori voi se vedete qualche nome interessante raga scrivetemelo nei commenti scrivetemelo nei commenti e poi io poi eventualmente vengo tanto non andremo avanti oltre questo giorno in questo video quindi potremo avere tutto il tempo di eventualmente leggere i vostri commenti oh questo è forte soli slonina nina eh porca miseria questo è interessante statunitense questo sarebbe interessante ma centrocampo raga abbiamo il mondo mamma mia lima chi sei zio difensore centrale brasiliano ma tu sei una bestia aggiungi aggiungi aiaia raga aiaia raga qui adesso si inizia a fare complicata la situazione la situazione si inizia a fare complicata abbiamo un sacco di regen interessantissimi abbiamo un sacco di regen interessantissimi allora andiamo a vedere un attimino chi abbiamo trovato hub mercato io tra l'altro ho un sacco di giocatori che non mi servono più qui allora dove stanno i regen che abbiamo la forte che non è per niente male signori miei la forte e lima che sono due difensori centrali sono due difensori centrali la forte e lima brasiliano di 20 anni 181 187 e 1 189 5 piedi 5 stelle piede debole e 3 stelle piede debole e forse secondo me 3-2 è pure più forte questo lima che è pure più giovane questo lima è ancora più forte 78 kg per 78 kg sono tutte due brasiliani valutiamo valutiamo la forte lima ne prendiamo solamente uno raga non li pigliamo tutti e poi c'è questo qua questo centrocampista 19 anni no questo è fracco raga è scarso due piedi di impossibilità due piedi di piede debole no 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 questo evitiamo evitiamo allora questo ce l'abbiamo chiaro ora andiamo in hub rosa vediamo un attimino qual è la situazione allora noi abbiamo mckinley ok breman perfetto e taylor che ha il contratto di scadenza taylor lo mettiamo in vendita raga taylor lo mettiamo in vendita e ci portiamo e i dama dalle giovanili poi abbiamo mitchell e watanabe per sulla sinistra ok in difesa abbiamo harwood salazar vatz ed emilton ok potremmo mandare vatz in prestito e andarci a prendere quel giovane quel giovane interessante o farà il conterario lo possiamo valutare sulla destra abbiamo solamente drollo quindi ci serve un terzino destro poi abbiamo un ponza cullingham allora cullingham mi lo manda in prestito raga deve crescere deve crescere deve fare esperienza cullingham in prestito sulla sinistra abbiamo nicolson ed esposito ok poi abbiamo mariani raid e tecudu tecudu che è un 56 se non sbaglio c'è qualche centrocampista messo meglio da un attimino da vedere io tecco lo metto pure in lista prestiti raga lo facciamo crescere ho sbagliato tasto scusatemi tecudu lo mando pure in prestito così canningham e tecudu li abbiamo mandati in prestito poi che abbiamo poi che abbiamo sulla destra abbiamo salli casadei che è un 60 e salli ma che ha 28 anni è un 65 lo mandiamo in vendita poi abbiamo naga johnson ha chiesto di essere ceduto di essere ceduto in prestito zio sei già messo nella lista prestiti morris claudio e teco 1 2 3 e 4 perfetti in attacco siamo coberti bene in attacco siamo coberti bene altra cosa da fare prima di fare qualsiasi altra cosa signori miei allora io andiamo staff primavera vediamo se abbiamo un esterno destro ts 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 d e di non abbiamo un esterno destro porca miseria va bene lo troveremo strada facendo sicuramente strada facendo troverlo sicuramente poi dobbiamo prenderci o questo kurumaki un 50 o questo neistrom che però ha 15 anni quindi intanto ci portiamo kurumaki promuoviamo kurumaki e poi invece al centrocampo abbiamo alvarez che è un 59 ok e poi e poi e dama abbiamo detto ce la portiamo ce la portiamo in 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 prima squadra se adesso abbiamo alvarez che è un 59 ma c'è un potenziale fra 88 e 94 ok e poi franco gomes che c'ha 16 anni e potrebbe essere interessante ma però lo teniamo lì e portiamoci questo alvarez raga che c'è un grandissimo potenziale 88 e 94 alvarez ho giudicato alvarez ok così siamo coperti a centrocampo alvarez lo dobbiamo fare crescere e dobbiamo semplicemente fare altre due piccole cose ovvero abbiamo portato ovvero andare qui andare a prendere e yadama che on 64 ha un potenziale di diventare speciale lo mettiamo in prestito così il nostro yadama va a fare esperienza fuori e poi signori miei signori miei signori miei siamo a posto così alvarez ora lo alleniamo così cresce dudu lo stiamo andando in prestito nostro teco dudu lo stiamo andando in prestito caserai salivan che lo stiamo vendendo osame kuruma deve crescere un botto signori miei c'è il codino c'è il codino che simpatico che prenderà il posto di salivan ma dobbiamo farlo crescere tantissimo naga johnson morris claudio e dudu perfetto allora io ragazzi non perdo tempo non prendetelo come un un non volervi ascoltare ma io quel difensore centrale brasiliano me lo vado a prendere subito quel difensore brasiliano lima lima me lo vado a prendere subito signori miei andiamo a trattare per l'acquisto si soliders lima andiamo a trattare per l'acquisto sì 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 secondo me questo è tanta roba eventualmente mandiamo in prestito a Vaz salve sono felice lui vuole essere cruciale porca miseria contro offerta è importante dai importante vuole essere cruciale porca miseria vuole essere cruciale va bene ti diamo cruciale va bene poi ce la sbrigeremo noi accetta va bene cruciale 5 anni di contratto ci sta bene accetta va bene 5 anni di contratto mi sta bene clausola recessore non la vogliono nemmeno noi va bene così bello 5 milioni più tutte quelle cose lì allora contro offerta tutti quei bonus te li dimentici e vanno bene i 5 milioni dai 5,8 va bene va bene va bene accetta accetta ok signori miei abbiamo il difensore centrale che forse non era l'esigenza principale però 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 abbiamo preso un signor difensore centrale che andiamo a vedere subito come è combinato andiamo qui vediamo cosa abbiamo comprato signori miei noi abbiamo Salazar che è un 73 Harwood che è un 73 abbiamo preso dove sta Lima che è un 77 eh raga raga porca miseria è un 77 è un 77 signori miei un 77 poi abbiamo Hamilton che non trovo più dove finì Hamilton che è un 70 Hamilton che è un 70 e Watz che non trovo manco più lui Watz che è un 69 Watz lo mandiamo in prestito raga così va a fare esperienza da qualche altra parte e noi abbiamo le nostre due coppie le nostre due coppie difensive Harwood Salazar Watz lo mandiamo in prestito è un 69 non è male ma lo mandiamo in prestito così va a fare esperienza da qualche altra parte detto questo ragazzoli io per questo video mi fermo qui abbiamo fatto un po' con la quadra della situazione la squadra c'è la squadra c'è fatemi sapere se devo comprare pure quell'altro difensore centrale fatemelo sapere nei commenti e niente ragazzoli detto questo noi ci vediamo qui sul canale per un prossimo video grazie per i like per i commenti e per tutto quanto bella raga ciao 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 ciao